Silea. Tentano di portare via la cassaforte al negozio Obi, nella zona del centro commerciale di Silea, ma qualcosa non va e i ladri sono costretti a scappare. Colpo fallito l'altra sera all'interno dell'azienda di via Caduti di Nassiria, nella zona del centro commerciale emisfero di Silea. I ladri sono entrati nel magazzino e si sono diretti verso il punto dove era posizionata la cassaforte. I malviventi hanno tentato di spostarla, ma poi, forse disturbati, hanno abbandonato tutto e si sono dati alla fuga. Grazie.